Il 3 e il 4 maggio a Casadecchio di Reno 54esimo raduno nazionale dei suonatori di campane Il sabato dalle 15 alle 20 e 30 e la domenica dalle 8 e 30 alle 18 Mostre, convegni e concerti di campane Il raduno si propone di dare il giusto spazio a tutte le realtà campanare presenti in Italia favorendo la conoscenza ed il confronto reciproco Le diverse influenze dei numerosi popoli che nei secoli hanno calpestato il suono italiano hanno influito nei diversi aspetti della nostra cultura Ed anche l'uso delle campane ne è stato toccato Proprio per questo nel nostro paese non esiste un solo modo di suonare le campane ma vari sistemi diversi anche fra paesi distanti pochi chilometri Grazie a tutti Il raduno nazionale vorrà essere un momento di riunione e di conoscenza della tradizione campanaria italiana. Il raduno nazionale vorrà essere un momento di riunione. Il raduno nazionale vorrà essere un momento di riunione e di conoscenza della tradizione campanaria italiana. All'estero saranno gruppi di Sorrento, gruppo campanari di Sorrento, marchigiani, insomma diciamo tra tutte le parti d'Italia nel vero senso della parola. Il gruppo campanari padre Stanislao Mattei con questo 54esimo raduno nazionale festeggia i propri 80 anni di attività. Nel cuore dei soci vi è la salvaguardia della tradizione campanaria locale, nonché la conoscenza e il rispetto per la cultura legata a questi strumenti in ambito non solo nazionale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti